Fermezza è il principio su cui si basa la condotta futura del PD, così come è emerso dalla direzione provinciale del partito riunitasi luna di sera a Corso Garibaldi. Nessuna sponda a Mastella, nessuna indulgenza, tentativi di inciucio che consentano all'amministrazione di tirare a campare. L'unica sfiducia a Mastella deve avvenire in aula, dicono i dem. Ogni altra strada appare destituita di forza e incapace di raggiungere l'obiettivo, che è quello di mandare a casa Mastella. Cosa al momento difficile da praticare, l'opposizione non ha i numeri e se non arrivano fronde interne alla maggioranza, tra coloro che giudicano tortuoso il documento contabile preventivo, Mastella potrà dormire sogni moderatamente tranquilli. Se poi si mette anche De Caro a seminare dissidio tra i gruppi e i partiti, che in questo momento si oppongono al sindaco, il quadro appare ampiamente delineato. Si potrebbe anche ipotizzare, e non sarebbe neppure peregrino pensarlo, che De Caro tiri la volata al suo eterno rivale, disgregando con affermazioni estreme un clima che invece dovrebbe essere amalgamato e coeso, col risultato di ottenere l'effetto inverso, quando poi si andrà in aula per approvare o meno il documento, che potrebbe slittare a fine aprile e ciò darebbe a Mastella anche un sostanzioso vantaggio in chiave regionale se dovessero essere spostati in avanti i termini dell'approdo alle urne, così come lo stesso sindaco ha prospettato attraverso il suo profilo Facebook. Intanto Italo di Dio chiama tutti al ragionamento, un tavolo di dialogo dell'opposizione per trovare punti di convergenza sul modello da opporre a Mastella, ma più di tutto la richiesta di una commissione di inchiesta sul dissesto. Io volevo fare un appello ai consigli comunali di opposizione per aprire un tavolo di discussione quanto prima io scriverò a tutti i capigruppo di opposizione per cercare di capire da qui a breve quali saranno le azioni da mettere in campo. Rilancerò la proposta per la costituzione di una commissione di indagini sul dissesto. Sono passati tre anni, da febbraio del 2017 sono tre anni che la commissione LOS, la Serri Unita, e ancora non viene pagato un creditore. Così come la questione sul piazza Duomo, così come la questione del Termina. tante questioni. Io mi auguro che l'opposizione torni, serri un po' i ranghi e inizia a fare battaglie sui temi veri.